L'ora esatta è offerta da Ben ritrovati con la nostra informazione Il comune di Alessandria dice sì alle cave per il terzo valico Nello specifico la Giunta Rossa ha dato l'ok per smaltire lo smarino del cantiere per il tunnel ferroviario Sentiamo De De Vinci Il comune di Alessandria ha approvato una delibera con la quale si dà il via alla realizzazione di un'ampia zona boschiva Intorno a tre cave di spinetta marengo che diventeranno depositi di materiali provenienti dai lavori del terzo valico Già a partire dal primo lotto Così come approvato dal piano ministeriale che ha variato e quindi anticipato al primo lotto dei lavori del terzo valico L'utilizzo delle cave di spinetta marengo Si tratta di cava bolla, cava guarasca 1 e 2 e cava clara e buona Nella delibera della Giunta Alessandrina c'è la precisazione che il terzo valico è considerato opera strategica Inserita nella programmazione europea e che esiste una legge obiettivo nazionale che travalica la normale potestà dei comuni La delibera sottolinea che questo intervento consentirà di rinaturalizzare l'area delle cave E quindi creare un vasto bosco che avrà come vincolo la fruizione pubblica su parte dell'area Il sindaco Rita Rossa ha dichiarato che con questa delibera si conferma e si mette la parola fine all'utilizzo della guarasca come discarica Non vi sarà più nessuna possibilità, dice nemmeno nel futuro E sarà possibile in questo modo coprire i buchi con uno stretto controllo da parte dell'ARPA E provvedere a ripiantumare le zone che diventeranno un bosco nel giro di 4 o 5 anni Parallelamente, dice ancora il sindaco, avremo come compensazione ambientale il rifacimento di via Genova con i suoi marciapiedi e della stortigliona Sarà poi possibile aprire un tavolo con la regione Piemonte per il rilancio dello scallo ferroviario e quindi della logistica Che ha un senso solo se il terzo valico verrà realizzato Altre notizie, le fiamme gialle del comando compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato i responsabili di un'azienda vitivinicola del Monferrato per aver evaso al fisco 1.200.000 euro e per non aver versato l'IVA dovuta per un totale di 50.000 euro La Guardia di Finanza è arrivata a scovare la frode fiscale dopo una verifica effettuata dalla documentazione contabile della società operante a livello nazionale nel settore della commercializzazione dei vini L'amministratore delegato dell'azienda e il responsabile della società sono stati denunciati per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi percepiti negli anni 2012 e 2013 Ultiamo pagina, medico sotto processo davanti al giudice di pace Il professionista è accusato di aver lasciato un catetere nell'omero di un paziente durante l'intervento chirurgico per ridurre una frattura Emma Camagna Cadde in montagna, si fratturò l'omero destro e fu operato all'ospedale di Alessandria Al momento della convalescenza iniziarono i guai Per molti e molti mesi accusò dolori talmente forti che neppure la morfina riusciva a placare Fu l'attacca a indicare il problema Durante l'intervento chirurgico nell'omero era stato dimenticato un catetere di drenaggio lungo 30 cm In un nuovo intervento chirurgico la cannula fu sfilata Il calvario cessò, seguì una prognosi di 20 giorni Al centro di questa vicenda l'autista Micco Casati Oggi 56 anni Alessandria Con gli avvocati Lanzavecchio e Spallasso Si è costituito parte civile al processo davanti al giudice di pace Che prenderà il via il 20 gennaio 2016 A carico del chirurgo È Maurizio Celenza 65 anni di Acqui Accusato di lesioni colpose per avere rimosso male il drenaggio Il medico difeso da Roberto Cavallone sostiene Che avendo avvertito una resistenza elastica Nello sfilare il catetere di drenaggio Fece fare una radiografia che non rilevò nulla di anomalo Ieri sera a Cassano Spinola i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Dorinel Sion Vasile Rumeno, 19enne senza fissa dimora Ritenuto responsabile di una rapina ai danni della tabaccheria Bagnasco di Cassano Di via Circonvallazione Il rumeno era entrato nel locale a volto scoperto poco prima della chiusura Verso le 19 e 40 con il pretesto di acquistare delle sigarette e un gratte Vinci La titolare mentre si apprestava a prelevare un biglietto da un contenitore È stata trattenuta per le braccia e privata del sacco All'interno del quale erano custoditi 10 blocchetti di tagliandi Per un valore di circa 3.000 euro Il rapinatore si è dileguato a piedi per le vie del paese con la refurtiva Ma inseguito da alcuni passanti che nel frattempo avevano allertato i carabinieri Che stavano pattugliando il paese È stato bloccato poco dopo dai militari nei pressi di una siepe Con il bottino ancora nelle mani Bottino poi recuperato e restituito alla titolare L'arrestato è stato trasferito presso il carcere di Alessandria con l'accusa di rapina Il pronto intervento di una volante della polizia della questura di Alessandria Alessandria è servito ad evitare gravi conseguenze ad una guardia giurata In servizio all'interno di un supermercato alessandrino A minacciarlo di morte è stato un romeno di 37 anni Sorpreso nel corridoio delle bevande in avanzato stato di ebrezza alcolica L'uomo all'invito di allontanarsi ha inveito contro la guardia Minacciandola di ucciderla con un coltello che aveva in tasca Bloccato e condotto in questura Il romeno è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate Ultima pagina si sono svolti nella parrocchia di San Giovanni Evangelista Ad Alessandria i funerali della badante Alessandrina Roslina Redolfi 47 anni uccisa dall'ex poliziotto Giancarlo Bossola di 60 I resti della salma della donna carbonizzati nell'incendio Appiccato dall'auto sulla quale viaggiava insieme al suo assassino Furono recuperati in mercoledì scorso lungo l'autostrada Genova Ventimiglia In territorio della provincia di Savona All'obitorio Ligure si trova ancora il cadavere dell'ex poliziotto In attesa del nulla osta della magistratura per i funerali Verrà poi trasferito ad Alessandria dove abita la mamma e un figlio Lasciamo la cronaca è ricco di cerimonie in provincia di Alessandria Il programma per i festeggiamenti dei 70 anni di liberazione Oltre agli onori ai caduti il programma prevede anche appuntamenti sportivi E proiezioni cinematografiche sulla vita e la storia dei partigiani Che hanno preso parte il 25 aprile del 1945 alla festa di liberazione Franco Capone 25 aprile 1945 Sono passati i 70 anni dal giorno della liberazione del nazifascismo 25 aprile 2015 Per chi ha vissuto la lotta partigiana e soprattutto la liberazione Il ricordo è sempre vivo Nella mente ogni anno tornano episodi di eroismo, di soprafazione Pasquale Cinefra, presidente dell'AMPI L'associazione partigiana della provincia di Alessandria Ricordando quei momenti al sindaco di Alessandria durante la presentazione della magistrazione Il programma in questi giorni ha evidenziato la gioia di quel giorno Il 25 aprile del 1945 In marcia, ricordo, raggiungemo vada sotto una pioggia di petali di fiori Ricorda Cinefri Dalle finestre le donne e le ragazze ci salutavano chiamandoci per nome Ricordo la gioia di quelle ore come se fosse oggi Ed è con questo spirito che la festa del 25 aprile ha preso il via con la rubrica Cinema e Storia Ovvero la proiezione di film dedicati alla resistenza Il programma ha incluso anche un momento di sport Sabato invece è dedicato alle celebrazioni ufficiali Che prenderanno il via alle 8 del mattino Con la deposizione di una corona di allora al Sacrario dei Caduti per la libertà al cimitero urbano E a seguire il ricordo e l'omaggio ai partigiani fucilati in Cittadella Dopo la messa in Duomo un corteo si snoderà per le vie del centro cittadino Fino a raggiungere il monumento ai caduti con lo schieramento di un picchetto d'onore interforze Onore ai caduti e deposizione di una corona da loro Dopo il saluto del presidente dell'Ampi L'orazione ufficiale del sindaco di Alessandria, presidente dell'amministrazione provinciale Rita Rossa I festeggiamenti per il settantissimo della liberazione Seguiranno anche il giorno dopo con un torneo di scacchi E si concluderanno il 28 aprile Giorno in cui venne firmata la resa di Alessandria Con lo spettacolo che si terrà al teatro Ambra Dove gli studenti alessandrini potranno conoscere la storia del giovane partigiano Aria Infine in Duomo sarà esposto il documento ufficiale della resa di Alessandria Restiamo in tema perché l'ex leader della CGL Sergio Cofferati torna sulle pagine della stampa locale a commentare la sua esclusione dalla possibilità di essere relatore ad Alessandria per la giornata del 25 aprile Era stato il sindaco Rita Rossa a bocciare il nome di Cofferati proposto da Lampi dopo che la stessa associazione dei partigiani aveva negato l'ok ai nomi di alcuni esponenti dell'attuale governo proposti invece dal primo cittadino Nella missiva a Cofferati si dice rattristato delle parole offensive che il sindaco di Alessandria avrebbe usato nei suoi confronti per giustificare il suo rifiuto Secondo lei si legge alla celebrazione del settantesimo anniversario della liberazione del nostro paese dalla dittatura fascista e nazista Non dovrò esserci ancora meno parlare perché la proposta ha detto rappresenta una provocazione inaccettabile E continuiamo a parlare delle manifestazioni promosse sul territorio per la ricorrenza del 25 aprile Andiamo ad Ovada dove c'è già un'iniziativa domani sera Bruno Mattana Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Ovada si presta a celebrare il settantesimo anniversario della liberazione con un calendario di iniziative veramente significative che sono state presentate a Palazzo Delfino realizzate in collaborazione con Lampi Venno di 24 alla loggia di San Sebastiano la giornalista Giovanna Rotondi racconterà Pasquale Tuminello colui che preservò a rischio della vita oltre 10.000 opere d'arte italiane dalle bombe e dalle reazzie naziste Il 25 la celebrazione ufficiale con una serie di iniziative cittadine e cerimonia conclusiva al Teatro Splendor con interventi artistici da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado Pertini di Ovada Importante appuntamento musicale poi alla sera al Teatro Splendor con il Festival Pop della Resistenza Protagonista ancora il drammaturgo a counterottore ovadese Giampiero Aloisio che ha scelto come filo conduttore il libro Luigi e Stanco scritto dallo zio dell'artista Remo Aloisio con storie varie e avvincenti Ma non è tutto perché domenica 26 si svolgerà a Ovada, a cura di Ovada Sport e Whisper Sport per tutti con il patrocino del comune di Ovada e di una serie di comuni dell'Ovadese e Ligori nonché delle province di Alessandria e Genova, la staffetta polistica Piancastania-Benedicta un significativo omaggio all'evento del settantesimo anniversario della liberazione La manifestazione è stata presentata da Stelio Sciutto dell'organizzazione che ha illustrato tutti gli aspetti di questa importante iniziativa che partirà dal Sacrario di Piancastania e poi si concluderà dopo tanti chilometri nell'ambito dei comuni del Parco di Capanna e di Marcarolo tra collegamenti con quelli Ligori di riferimento nell'altro importante Sacrario, quello della Benedicta si partirà alle 8 mentre la conclusione è prevista per le 17.30 Sono 50 tra cui 6 donne gli idonei a ricoprire l'incarico di nuovo direttore generale delle aziende sanitarie del Piemonte da questo elenco saranno scelti 16 nomi di coloro che guideranno la sanità piemontese nei prossimi tre anni nell'elenco figurano 9 direttori attualmente in carica molti provengono da fuori regione una scelta di buona qualità afferma il presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino nella massima indipendenza dalla politica ma sentiamo il servizio di Roberto Monteriso La regione Piemonte è pronta per la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie la giunta Chiamparino ha approvato lo schema del contratto tipo che prevede un'indendità di base più il 20% come premio di risultato per il raggiungimento degli obiettivi se questi non saranno raggiunti o in caso di accorpamenti delle aziende i nuovi vertici potranno essere rimossi i nuovi direttori scelti a partire da 269 domande resteranno in carica per tre anni le nomine dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie piemontesi potrebbero arrivare prima di quanto si pensasse lunedì 27 aprile infatti la giunta regionale potrebbe essere in grado di deliberare le nuove nomine l'annuncio dell'assessore alla sanità Antonio Saitta stiamo rispettando in pieno le scadenze e il direttore Fulvio Moirano approverà una determina con l'elenco dei candidati ritenuti idonei e lunedì prossimo la giunta delibererà la nomina dei 16 nuovi direttori generali ci sarà anche la possibilità per la prima volta di rescissione anticipata nel caso in cui non raggiungano gli obiettivi indicati ha concluso Saitta sono previste verifiche annuali e saranno nomi che vi stupiranno ha commentato invece il governatore Chiamparino un elenco più breve del previsto 50 nominativi ecco la short list dei candidati idonei dalla quale l'assessorato della sanità sceglierà i 16 nuovi direttori nominati lunedì prossimo in giunta gli idonei sono 50 di cui 6 donne e di questi 9 sono attualmente in carica Baraldi, Bonelli, Boraso, Dore, Galante, Gallo, Giacoletto, Giorgione, Minola tra i direttori in carica non hanno superato la selezione dell'acqua Urani-Zulian esclusi invece dalla legge Madia che vieta incarichi a chi in età pensionabile Brignoglio, Briccarello, Marforio, Iodice e Morabito quest'ultimo tra un anno conclude l'incarico di direttore generale della Cuneo 2 la regione Piemonte intanto ha stanziato 15 milioni in più per l'assistenza dei non autosufficienti nel 2015 lo prevede una delibera degli assessori Ferrari all'assistenza e saitta la sanità che fa salire i finanziamenti del Fondo Sanitario per l'assistenza delle persone non autosufficienti da 265 a 280 milioni di euro confermando così la quota dello scorso anno Parliamo ora di sicurezza sulle strade di velo ok che in provincia di Alessandria si stanno allargando a macchia d'olio nati per tutelare i cittadini sono anche uno strumento di introito per i comuni nell'Alessandrino su 190 amministrazioni comunali in 40 hanno per ora scelto i cosiddetti box arancioni Quota 40 è questa la cifra relativa ai comuni che in provincia di Alessandria potranno vantare una dotazione di velo ok parliamo di sicurezza sulle strade e parliamo di centri che hanno scelto questo strumento per limitare gli eccessi di velocità degli automobilisti indisciplinati ad oggi sono una ventina le amministrazioni comunali che hanno detto sì ai box arancioni che oltre a rimettere in riga chi sgarra sono anche un introito per le casse comunali presto, secondo quanto riferito dalla ditta che installa i velo ok altri 20 realtà dell'Alessandrino si doteranno di questi contenitori 250 in tutto finora quelli posizionati sulle strade ritenute più pericolose lo scopo è ovviamente di tutela nei confronti della popolazione che troppo spesso si trova coinvolta in incidenti e tragedie stradali per cui da anni si chiede l'introduzione del reato di omicidio solo dopo un primo monitoraggio sperimentale i comuni potranno decidere di applicare le sanzioni posizionando un autovelox all'interno di uno dei contenitori arancioni anche la biblioteca civica Francesca Calvo di Alessandria celebra oggi la giornata mondiale del libro 2015 con la distribuzione gratuita di libri ai partecipanti istituita nel 1996 dall'UNESCO essa ha lo scopo di promuovere il piacere e il senso della lettura e valorizzare la scrittura di molti autori che con i loro romanzi, saggi, narrazioni hanno stimolato la nostra curiosità dando un contributo al nostro sapere e al patrimonio culturale in biblioteca ad Alessandria fino alle 17 si terrà la manifestazione intitolata Un dono, un libro a tutti i partecipanti verrà infatti donato un libro nel frattempo sarà proposto per bambini e adulti un laboratorio di scultura di libri con la collaborazione dell'artista e musicista Andrea Serrapiglio Restiamo in tema perché torna ad Alessandria la manifestazione Libri in Festa giunto alla dodicesima edizione il festival dedicato alla promozione della lettura per ragazzi è stato presentato a Palazzo Rosso uno degli enti che patrocinano la Kermes culturale l'appuntamento è dal 5 al 9 maggio nella galleria di Via San Lorenzo sentiamo il servizio Il piacere di scegliere un libro di sfogliarlo e di immergersi nella storia che sta per regalarci perché leggere è un appagamento e una piacevole abitudine che non tutti si concedono e il gusto che genera nella mente e nella fantasia di ognuno di noi quello che è a tutti gli effetti un nutrimento quotidiano per l'anima ben si abbina quest'anno al filo conduttore sul cibo di Expo Milano 2015 ad Alessandria in concomitanza con i giorni di avvio dell'esposizione universale sta per partire la dodicesima edizione di Libri in Festa il festival dedicato alla promozione della lettura per ragazzi animerà dal 5 al 9 maggio la galleria di Via San Lorenzo con una serie di iniziative collegate al titolo Il libro è servito l'evento realizzato dall'associazione culturale Il Conta Storie con il sostegno di numerose istituzioni mette al centro non solo l'argomento cibo ma lo collega alla fame dei bambini in tutto il mondo per questo motivo durante la kermesse letteraria si parlerà anche di educazione alimentare di solidarietà di conservazione del nostro pianeta le storie poi si lavorano, si impastano, lievitano diventano cibo per la mente cibo che attraverso le parole nutre il sapere e la memoria dei ricordi una parte del ricavato dell'iniziativa sarà devoluta all'acquisto di derrate alimentari da destinare alla Caritas Diocesana di Alessandria per la mensa a tavola amica e per le famiglie in difficoltà la solidarietà sarà uno degli ingredienti di una manifestazione molto amata dagli alessandrini cibo e letteratura un connubio non tanto scontato ha affermato Rosalba Malta che presiede l'associazione culturale il Contastorie abbiamo pensato che i bambini possano essere affamati anche di relazioni di attenzione di incontri per quest'altro motivo Libri in Festa sarà un continuo scambio di idee con workshop per studenti insegnanti e lettori che incontreranno i grandi autori della letteratura per ragazzi tutti gli appuntamenti sono organizzati durante il normale orario di svolgimento dell'attività didattica ma sono previsti incontri aperti ogni giorno dopo le 16.30 per l'utenza libera come di consueto Libri in Festa ospita una nazione straniera con una serie di eventi dedicati quest'anno saranno ospitati i Paesi Bassi Dalle venerdì 24 aprile ad Alessandria dove nei locali della ristorazione sociale l'associazione verso il Kurdistan ricorderà lo sterminio armeno di cui ricorre il centenario e presenterà un progetto di storia contemporanea vinto dagli allievi dell'Istituto Vinci di Alessandria l'appuntamento prenderà il via alle 18 domani e prevede la partecipazione straordinaria di Laura Efrician prima moglie del cantante Gianni Morandi che presenterà il libro intitolato La vita non ha età e renderà omaggio alla figura del nonno paterno armeno perseguitato che si rifugiò poi a Venezia dopo il dibattito seguirà una cena a base di cibi armeni, curdi e italiani siamo alla pagina sportiva sono ore di grande attesa per la tifoseria dell'Alessandria Calcio pronta a sostenere la squadra fino alla fine il tecnico dei grigi Luca D'Angelo dopo le amare constatazioni del presidente Luca Di Masi fatte dopo il pareggio con il Salò ha sottoposto la squadra ad una serie di particolari allenamenti per continuare a sognare la Serie B occorre vincere tutte e tre le gare ancora in calendario a partire da sabato Almo Cagatta contro il Como la pagina sportiva oggi è curata da Franco Capone subito dopo il meteo e le notizie utili grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni grazie per averci seguito